fish on rod finalmente un video di integrazione al video che abbiamo già fatto un po di tempo fa siete stati in tantissimi a prendere la confezione che era in offerta quelle 50 confezioni sono state bruciate in 12 ore tipo neanche 12 ore del video abbiamo avuto un grande successo tantissimi hanno riordinato la pastura quindi vi ringrazio ma visto tutto questo successo abbiamo deciso di fare anche un po di evoluzione e di dare magari diciamo delle possibilità in più a chi va a scegliere questa pastura allora le novità in questo video sono sono diverse quindi vi consiglio di vederlo fino alla fine la prima cosa la prima novità è la fish on rod rossa che è questa mezzo fondo sempre però con questo marchetto qui rosso cosa vuol dire vuol dire che è una pastura che è color rosso e che è molto più facile da vedere quando si fa la scia soprattutto in pesca e tonni questa l'ho richiesta io proprio come mia necessità personale perché con la pastura color marroncino era un po più difficile da guardare questa invece lascia una scia proprio rossa nell'acqua e quindi si vede benissimo la direzione che prende la pastura ovviamente questo è un colorante assolutamente biologico non c'è nulla di chimico dentro quindi non preoccupatevi non si fa nessun tipo di inquinamento nell'acqua c'è scritto anche certificato nell'etichetta dopo abbiamo sempre parlando della fish on rod mezzo fondo e bisogna stare attenti adesso con le parole perché il discorso si complica un po abbiamo i booster che sono questi questo è quello a base cozza e dopo anzi questo scusate cozza e l'altro era vongola sono due booster creati appositamente per la pesca delle orate all'interno della busta avete anche un flaconcino di feromoni sono 125 grammi in pratica di cozza sgusciata già pronta sono è umida ovviamente è trattata già con dei sali e va mescolata alla mezzo fondo o alle altre pasture che adesso vi racconterò si forma appunto l'impasto se diventa un po troppo secco si può o bagnare con dell'acqua di mare oppure ancora meglio utilizzare la sardina liquida che è questa questo è un altro prodotto che antiche pasture ha in catalogo già da tantissimo tempo si tratta in pratica di come chiamarla è una colatura di sardina è praticamente a base di proteine e grassi puri ma non è olio di sardina è una colatura è un comportamento idrosolubile ed è un comportamento è come se fosse una specie di gel non lo so come chiamarlo fatto sta che questo aumenta ancora il potere di coesione della nostra pastura quindi si aggiunge un po di questo o acqua di mare il booster si mescola il tutto e si possono fare le palline palline che devono essere grandi da nocci fino a mandarini considerate le palline si lanciano a seconda della corrente o più vicino alla barca o un po più lontano sempre sopra corrente a un certo punto voi vedrete proprio sull'eco scandaglio cadere la pallina ho fatto anche dei video dell'ultima volta che sono andato a pesca di sgombri ma si capisce benissimo il funzionamento altre due novità abbiamo la fission road fondo che è questa ok questa in pratica è formulata per poter essere utilizzata anche per profondità superiori ai 30 35 metri è stata un po studiata per quelli che vivono in adriatico e hanno bisogno di andare a pescare sulle piatte fondamentalmente perché ha più collante all'interno e più quindi crea e più coeso come materiale e quando si fa la pallina ha un peso specifico anche un po più alto e riesce a rimanere praticamente integra fino a quando arriva sul fondo e dopo lì comincia a sciogliersi e lasciare tutte le sue essenze che richiamano i vari pesci quindi questa è strutturata proprio per andare a pescare a bollentino oltre ai 30 35 metri fino ai 50 60 io direi proprio senza assolutamente nessun problema poi c'è la terza variante e ultima che è questa che è la surface superficie questa qui è praticamente composta come le altre due agli stessi ingredienti però invece di avere un prodotto all'interno che la pesantisce e che la fa precipitare verso il fondo c'è un altro tipo di prodotto che la tiene invece più in sospensione quindi quando noi la usiamo creiamo una scia molto lunga che rimane tanto tempo in sospensione nell'acqua questo ovviamente ci permette di andare a pescare tutti i pesci di superficie gli sgombri suri sugarelli tutte queste cose qua è molto utile anche nella pesca del tonno ovviamente anche se io tutto sommato mi trovo benissimo con la mezzo fondo la mezzo fondo utilizzando una sessola un cucchiaio di mezzo fondo una o due sarde tagliate a pezzettini e lanciate un po a ventaglio ti creano una pastura perfetta ci sono delle immagini adesso ve le mostro questo è quello che si vede sull'ecoscandaglio quando noi utilizziamo questa pastura lanciandola proprio in acqua una parte precipita sul fondo e richiama tantissimi pesci sul fondo e una parte invece rimane in sospensione per tanto tempo e quindi mi attira altri pesci che arrivano proprio da mezz'acqua per i tonni si è rivelata veramente micidiale perché ti permette di vedere il tonno fin sotto la barca quando uno è abituato invece a pasturare solo con la sarda pura molto spesso fa una scia molto allungata e pochissimo materiale arriva sul fondo infatti sul nostro ecoscandaglio raramente riusciamo a vedere la sarda cadere a fondo perché la corrente ce la sposta sempre e questo vuol dire che non siamo in grado di riuscire a vedere magari i pesci sull'ecoscandaglio che sono invece in pastura con questo tipo di upgrade chiamiamolo così nella nostra pasturazione riusciamo chiamare i pesci e farli arrivare fino sotto l'ecoscandaglio quindi finalmente riusciamo a vederli un altro integratore molto furbo da usare con queste pasture è la sardina liquida che è questa questo è un prodotto che esiste già da molto tempo nel catalogo di antiche pasture in realtà però io l'ho trovato perfetto come abbinamento a queste pasture la sardina liquida è una colatura di sardina non è olio di sardina attenzione sono due cose completamente diverse questa è una colatura quindi va utilizzata in un altro modo è idrosolubile e quando la mescoli con la con la pastura crea una specie di gel cioè diventa tutto un po più piccicoso molto più compatto e va molto bene se io devo pescare a profondità un po più elevate o se ho la necessità di arrivare con la pastura proprio sul fondo vi ricordo che queste pasture sono praticamente studiate per diverse caratteristiche c'è una parte meccanica cioè c'è lo studio su tutto quello che riguarda la coesione della pastura il peso della costura anche la durata nel tempo perché comunque sono pasture che riescono a durare tranquillamente qualche mese nel loro barattolo anche una volta aperto poi c'è una parte chimica invece che sono tutto il discorso degli aromi sali esaltatori di sapore che creano in questa pastura veramente un potere attirante fortissimo tutti quelli che l'hanno provata e che hanno sentito il profumo capiscono immediatamente qual è la qualità di questo prodotto che è veramente altissima lì trovate tutti quanti nel sito di antiche pasture che a breve speriamo sia anche rinnovato comunque lascio il link in descrizione quindi voi andate giù nella descrizione del video e trovate il link per poter fare eventualmente gli ordini se vi interessa c'è sempre il codice sconto davide 5 quindi otterrete un ulteriore sconto del 5% utilizzando questo codice cosa fare io vi posso dire provatela perché è veramente eccezionale per chi pesca le orate per chi pesca tutto il pesce di mezzo fondo chi pesca anche il pesce di superficie almeno una volta provatela perché così vedete veramente la differenza tra una pasturazione normale e una pasturazione scientifica questa pastura l'ho creata insieme con Andrea Passini che ha un'esperienza decennale nel campo e il motivo per cui c'è la mia foto anche qua sopra è perché proprio diciamo ho collaborato nella creazione e l'ho certificata vi posso assicurare che questa funziona veramente bene ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi